Rocky Balboa, campione incontrastato, viene messo KO dal potente pugile nero Mr. T. L'allenatore Mickey muore e Rocky sembra finito. Sarà il nemico di sempre Apollo Creed ad aiutarlo a ritrovarsi e a guidarlo alla riconquista del titolo. Questo terzo film della serie è uno dei più belli, splendidi combattimenti con Mr. T e Hulk Hogan, ma come non commuoversi per la morte di Mickey. Rocky resta comunque uno dei più bei personaggi interpretati da Sylvester Stallone.